C'è così tanto da raccontare che dove arrivo, arrivo. Se qualcuno ha qualche interesse particolare, se me lo chiede, credo che poi sia comunque interessante per chiunque. Io cerco di raccontare quella che è stata la storia della nascita del personal computer, cioè del programma 101 che è stata lanciata dall'Olivetti nel 1965, nell'ottobre del 1965. La storia comincia all'inizio del 1962, in un ambiente che era il laboratorio ricerche elettroniche. Lavoratorio ricerche elettroniche che Adriano Olivetti aveva costituito insieme all'Università di Pisa per il primo sviluppo di calcolatore elettronico in Italia. Quella storia comincia nel 1955, Adriano aveva già capito che nel suo futuro ci sarebbe stata l'elettronica, però l'occasione è stata quando l'Università di Pisa, su suggerimento anche di Enrico Fermi, ha voluto invece di mandare qualcuno, come ha fatto l'Università di Milano, a comperarsi, a farsi fare un calcolatore elettronico in California, cosa che era avvenuta nel 1954, ha deciso di mettersi e acquisire il know-how per farlo in casa il calcolatore. Mi sembra una scelta molto bella, non avendo tutti i soldi che servivano, ha chiesto all'industria chi voleva mettersi con lei, Adriano Olivetti è stato l'unico ad accettare e così è nata la storia. Adriano Olivetti, per costituire il suo laboratorio di ricerche elettroniche, è andato a cercarsi un certo signore, l'ingegner Mario Chu, che era figlio di un diplomatico cinese che lavorava in Vaticano. Nato in Italia, studiato in Italia, però il papà poi alla fine l'ha mandato negli Stati Uniti a perfezionarsi e Adriano l'ha trovato alla Columbia University, che a 30 anni, più o meno, forse meno, era lì che faceva il professore. L'ha convinto a rientrare in Italia e a cominciare a mettere in piedi il laboratorio. Ha cominciato con poche persone, si sono messi a studiare insieme all'università quella che poi sarebbe stata la CEP, Calcolatrice Elettronica Pisana, naturalmente la tecnologia di quel tempo erano le valvole. Poi si sono separati perché l'università puntava a qualcosa di scientifico, Adriano voleva qualcosa di commerciale, perché vedeva il calcolatore come qualcosa che si integrava a quello che erano gli ambienti che lui creava, gli ambienti di calcolo con le macchine da calcolo, le macchine fatturatrici, i contabili, come le audit, eccetera. Quindi si sono separati, ha trovato un posto provvisorio a Barbaricina, vicino a Pisa, e poi ha cominciato a fare un avvicinamento a Milano, perché il suo obiettivo aveva comprato le terre vicino a Rho, a Pregnana, e voleva incaricare, se ne ha incaricato le Corbusier a fare il progetto di quella che doveva essere la cittadella elettronica per l'Orivetti. Intanto il laboratorio è andato a Borgo Lombardo, dove aveva una piccola sede. Io sono stato assunto a Borgo Lombardo nel 61 da Mario Ciù. Diciamo che questo laboratorio di cerche elettroniche, partito con le valvole, nel giro di quattro anni, ha lanciato quello che è riconosciuto il primo calcolatore elettronico al mondo completamente a transistor, perché ha cominciato con le valvole, doppio triodo, tanto per dire quello che consente di fare un free flow. Poi è venuto fuori il transistor, negli anni di radioline, se ricordate chi almeno ha la barba come la mia, o i baffi bianchi come vedo lì, c'è la radio uniera e il transistor, lo stato solido che rispetto alle valvole, chi ha usato un po' le valvole ha solo vantaggi. Infatti ha cominciato, ha fatto una V0 tutta a valvole, che è stata usata ad Ivrea per fare il controllo di un magazzino. Poi ha fatto un secondo modello con buone parte di, soprattutto quelli di supporti magnetici a transistor, e ha visto che funzionavano benissimo. Tra l'altro anche lì il prototipo completato funzionante, che è stato usato alla Consociata Italia, in via Clerici a Milano. Io l'ho visto fare manutenzione preventiva, cambiare le valvole tutte funzionanti, perché ogni tanto, ogni totto ore, le cambiavano tutte. Comunque poi, nel 59, la presentazione e il lancio dell'Elea 9003, il primo completamente a transistor, hanno cominciato a commercializzarlo, installarlo nel 60, e quindi in soli quattro anni, sostanzialmente, diciamo che l'Olivetti ha superato quelle che erano le aziende che istituzionalmente in America lavoravano da decenni su questa tecnologia, su questa cosa, IBM, Univac, forse General Electric, perché quelli avevano ancora, avevano delle macchine più o meno simili, come potenza, eccetera, però avevano ancora parti a valvole. Comunque questo, secondo me, è tanto per dire che aveva messo in piedi una macchina da guerra, che credo abbia fatto paura, voi sapete che gli americani avevano vinto la guerra, perché erano stati i primi a fare la bomba atomica, utilizzando da parte dei militari quello che erano i primi calcolatori. Quindi il concetto di calcolatore, che alla fine nella gente era diventata qualcosa di terribile, perché era associata alla bomba atomica, guarda che da un punto di vista psicologico, diciamo, però era considerato strategico dai militari, perché l'uso dei più potenti per primi poteva portare risultati che altrimenti non si avevano. Questo, secondo me, è quello che poi ha condizionato un po' il futuro della vita dell'elettronica in Olivetti. Comunque, tanto per tornare a noi, a Borgo Lombardo, purtroppo all'inizio del 60 è morto Adriano, alla fine del 61 è morto Mario Ciù, chi seguiva un po', perché ne capiva un po' di più, era il figlio di Adriano, che aveva puntato anche lui sull'elettronica, è uno che il papà aveva curato, diciamo, e aveva indirizzato a questo, e quindi era quello che veramente ne capiva e anche ci credeva. E aveva cominciato, in assenza degli altri due, a gestire l'evoluzione, il lavoro nel laboratorio ricerche elettroniche. io lo vedevo mentre giravo lì, anche se non sapevo, ho saputo dopo chi era, comunque che girava. Ecco, e all'inizio del 62, io ero appena uscito dal corso di quattro mesi che facevano a tutti, laureati e diplomati, per introdurli, perché era un campo in cui la scuola non ti preparava, e quindi facevano quattro mesi a tutti, e questo è, tra l'altro, un istruzione fatta benissimo, perché era fatta dai capigruppo del laboratorio. Quindi ci insegnavano di tutto, dalla tecnologia, a quelli che erano i circuiti, quello che erano le architetture, e così. Anche il linguaggio, perché bisognava saper parlare la stessa lingua degli altri, se no non ti integravi. Appena uscito, comunque all'inizio del 62, il dottor Roberto Olivetti ha chiesto all'ingegnere Perotto, che era appunto uno dei suoi capigruppo, e in particolare era quello che fino a quel tempo aveva sviluppato delle piccole macchine di contorno. Allora gli ha chiesto di fare uno studio, sostanzialmente, cioè utilizzando la tecnologia dell'ELEA, quindi, diciamo, la logica transistor, di provare a realizzare una macchina da calcolo, da definire quanto sofisticata, comunque che si affiancasse, che si mettesse nella parte alta di quello che erano le macchine da calcolo dell'Olivetti di quel tempo. Quando abbiamo le macchine da calcolo erano il core business dell'Olivetti, perché erano macchine fatte di ferro, lamiera di ferro, macchine progettate da Natale Capellaro, ma avevano la caratteristica di avere una, davano un profitto incredibile, perché a fine linea, essendo lamiera, quindi pezzi di ferro, che veniva stampata, tranciata e stampata, a fine linea erano macchine che tutta la macchina, come la Divisumma, ad esempio costavano meno di 40.000 lire di allora, però il mercato le assorbiva a 400.000 lire, cioè il 90% era a margine. Per quello che sembrava più uno studio che una cosa seria, quello che ha chiesto Roberto Olivetti, perché fare concorrenza interna a macchine di quel genere non si sapeva cosa potevano i fori, sembrava più che prepararsi per il futuro, che prima o poi l'elettronica avrebbe costato meno, si sapeva c'erano le prime voci di primi circuiti integrati, eccetera, quindi in attesa conveniva cercare di capire dove si poteva andare a parare. L'ingegnere Perotto comunque ha puntato subito a una macchina che avesse senso commerciale e quindi ha cominciato a darci quegli input e a farci cercare quelle soluzioni che potessero portare veramente a una macchina che doveva essere una macchina che era più o meno grande come le macchine da calcolo di allora, costare il meno possibile, essere facile da usare perché doveva essere messa sulla scrivania di chiunque, quindi il concetto fondamentale era la facilità d'uso e poi vedere cosa veniva fuori. Queste erano tutte le specifiche funzionali, sostanzialmente ce le avevano date Roberto Olivetti ed erano queste. La prima cosa che ha fatto adesso tanto per ricordare questo è Adriano Olivetti che voglio ricordare perché dovrei ricordare anche il papà perché il comportamento di Adriano era molto frutto degli insegnamenti e della mentalità del papà. Comunque qui c'è Mario Ciù e Roberto Olivetti, Mario Ciù è quello persona veramente eccezionale che ha guidato quel laboratorio come dicevo prima qui, quattro anni e tre step a fare il primo calcolatore elettronico al mondo tutto a transito partendo dalle valvole e poi Pier Giorgio Perotto che era il capo di quel gruppettino io mi sono trovato lì appena uscito come dico dal corso e quindi ho potuto cominciare subito da zero è stato il mio primo lavoro. Prima di questo Pier Giorgio Perotto insegnava al Politecnico di Torino insegnava servomeccanismi e calcolatori numerici quindi aveva anche un po' una conoscenza di quello che era la storia dei calcolatori prima di quel momento. perché le insegnava tra l'altro aveva scritto un libro di quel corso che era servomeccanismi e calcolatori numerici che come sono entrato nel suo gruppo l'ingegnere De Sandre che era il mio capo a cui era stato affidato mi ha detto lei intanto si legga questo e io la prima cosa ho fatto un sacco di fatica però devo riconoscere che attraverso quel libro io mi sono assorbito i concetti fondamentali del calcolo binario e quindi di cosa bisognava fare calcolo binario riportarlo in decimale tutte queste cose qua che sono state fondamentali per la macchina che abbiamo fatto. Va bene questo ecco la prima cosa che l'ingegnere Perotto ci ha chiesto è quello di fare delle prove perché questa è la tecnologia della memoria di quel tempo del calcolatore ed era la memoria nuclei una memoria molto sofisticata eccezionale appunto però aveva ecco quel modulo che voi vedete ha la dimensione di circa mezzo metro è un cubo di mezzo metro e è una memoria di 10k byte byte da 6 bit perché l'elea aveva 6 bit quindi sono 7 piani ogni piano ha 10.000 nuclei di ferite che sono filati come vedete in quest'altra figura quindi ogni nucleino di ferite è attraversato da 4 fili tutta roba che viene fatta a mano quindi pensate alla complessità ogni piano aveva 10.000 di questi nuclei filati a mano il costo quindi intrinsecamente molto altro i circuiti per pilotarlo erano tanti perché ad esempio ogni piano era organizzato in una matrice 100% in cui c'erano 100 pilotaggi sul lato X 100 sul lato Y energizzando uno solo da una parte uno solo dall'altra mandando mezza corrente e mezza corrente c'era un solo nucleo attraversato dalla corrente intera che serviva per fare commutare il nucleo che era il modo per vedere se c'era scritto 0 o 1 però vedete la complessità anche il numero di circuiti solo per fare la selezione era una vera e propria RAM comunque cioè tu avevi bisogno di leggere il contenuto di un byte davi l'indirizzo facevi il ciclo di lettura e veniva fuori il contenuto del byte questo lo dico perché poi tutte le RAM a semiconduttore hanno questa caratteristica molto facile anche da organizzare quello che è l'elaborazione di numeri organizzati in byte in questo modo però intrinsecamente l'ingegnere Perotto a considerare penso a ragione che fosse troppo cara come partenza non siamo mai arrivati ad avere a raggiungere a raggiungere l'obiettivo e allora lui conosceva che negli anni trenta venivano usate delle memorie decisamente molto semplici molto semplici perché sono delle cosiddette memorie a linea magnetostrittiva principio scoperto da Jaul aveva scoperto che ci sono dei metalli quelli che presentano questa caratteristica della magnetostrizione che vuol dire che sottoposti a un campo magnetico se io faccio cambiare l'intensità del campo magnetico cambiano leggermente la loro dimensione fisica poi il villari italiano ha scoperto che c'era l'opposto se io ho un pezzo di questo e lo metto in un campo magnetico gli do uno shock meccanico guarda caso si alza il campo magnetico perché la botta che gli do cambia la permeabilità magnetica del pezzo di metallo allora com'è che hanno fatto a fare una memoria di questo genere come vedete sulla figura alla sinistra quella è stata la prima memoria magnetostrittiva che ci hanno fatto al laboratorio di fisica a Borgo Lombardo ecco perché tutto quel mondo era organizzato a laboratori specializzati c'erano quelli che facevano il calcolatore mettendo insieme le parti però c'era chi curava ogni parte ne faceva l'evoluzione per preparare poi per i calcolatori i progetti successivi il laboratorio di fisica faceva ricerche anche fisica proprio fisica pura sostanzialmente è stato in grado di andare a capire com'era e ha fatto questo oggetto che io vorrei alzarmi e indirizzare con la cosa ma vabbè provo a descriverlo allo stesso quel pezzo di legno lì c'ha sopra un filo un filo che è anzi un fascio di fili di nickel perché il nickel è il metallo che presenta di più la magnetostrizione su un lato del filo c'è una bobinetta di scrittura anche ci sono due sono quelle rosse bobinetta di scrittura li passa dentro un avvolgimento li passa dentro il filo io do una corrente noi usavamo una corrente di mezzo microsecondo un ciclo di un microsecondo e gli metto la corrente e quindi per mezzo microsecondo creo un campo magnetico pezzetto di filo che c'è sotto per quel mezzo microsecondo si allunga poi torna come prima questo fatto genera un'onda meccanica un'onda come le onde sonore che si propaga poi nel filo esattamente con la regola la legge di propagazione sui solidi delle onde sonore quindi a seconda della rongezza del filo dopo un certo punto passa sotto un'altra testina che è quella di lettura una bobinetta quando passa sotto c'è quest'onda meccanica io con un avvolgimento provo a creare un campo magnetico quando passa l'impulso meccanico vedo che il campo magnetico si altera quindi un cambiamento di campo magnetico tiro fuori un impulso di tensione quindi ho scritto con un impulso di corrente dopo un certo punto a seconda della lunghezza del filo me lo vedo arrivare in fondo mi esce l'impulso di tensione lo rigenero lo riscrivo e lo mantengo in vita se io mi faccio una circuiteria che mi controlla faccio un filo che sia lungo quanto voglio io un numero finito di quei microsecondi quanto mi serve perché voglio un certo numero di bit e organizzo la rete per assegnare a ciascun impulso a ciascun quindi bit il suo peso nell'ambito di un byte l'organizzazione dei byte la somma dei byte in registri io ho fatto una memoria una memoria che è molto particolare perché i bit mi escono uno dopo l'altro devo continuare a prenderli custodirli riscriverli giocarci al volo perché li devo sommare l'uno con l'altro quindi è un discorso ben difficile da gestire però veramente con un circuito di scrittura e un circuito di lettura io ho fatto tutta la mia memoria se ho bisogno di più bit pago un po' in tempo allungo il filo non mi costa praticamente di più e il costo di tutta la memoria rimane lo stesso comunque siamo partiti da questo per fare il primo ecco qui c'è il concetto l'abbiamo poi ingegnerizzata e così ci siamo convinti che quella fosse la memoria giusta abbiamo cominciato a lavorare abbiamo dovuto decidere che taglio dare da un punto di vista funzionale a tutta la macchina allora abbiamo deciso dopo un po' di ricerche di fare una macchina programmabile l'ingegnere Perotto aveva in mente lui aveva dovuto lavorare fare tanti calcoli con le macchine meccaniche lui aveva lavorato per far generare dei profili di aerodinamica sostanzialmente lavorava alla Fiatavio e dice io ho dato mi sono divertito anche ho dato la mia conoscenza per definire i calcoli da fare però poi ho dovuto anche farli dice e mentre da una parte mi era piaciuto poi dall'altra parte ho provato stress dice non finivo più facevo gli errori dovevo tornare indietro dice secondo me questo è un lavoro e ci sono tanti laboratori ma non solo di tipo tecnico anche commerciale bancari eccetera che devono fare calcoli continuamente con le macchine per carità adesso ci sono le macchine una volta non c'erano anche quelle comunque con le macchine che fanno un'operazione alla volta dice se noi riusciamo a fare una macchina che faccia in modo automatico tu li puoi insegnare come eseguire una espressione una formula calcolarla automaticamente dice sono convinto che ha il suo mercato tranquillo cosa che non tutti credevano comunque lui questo è stato il punto di partenza abbiamo detto allora facciamo una macchina che sappia fare queste cose qui come fargliele fare cominciavano a esserci le macchine quelle che si chiamavano con il learn cioè che gli insegnavi imparavano tu facevi una sequenza di operazioni loro le memorizzavano e poi le ripetevano all'infinito quando abbiamo cercato di capire com'è insegnare le equazioni di secondo grado abbiamo trovato i problemi allora abbiamo detto ma facciamo una macchina programmabile programmabile quello si risolve tutto programmabile va bene programmabile con gli obiettivi vuol dire definire un linguaggio di programmazione ma deve essere un linguaggio semplice perché l'obiettivo era quello di dare una macchina che tutti sapessero usare e allora abbiamo definito un linguaggio abbiamo cercato un linguaggio veramente semplice essenziale io tiro fuori questa paginetta per dimostrare che è una macchina così semplice che sta tutta su un foglio è quello che uso per insegnare ai ragazzi che ci vengono a trovare sulla sinistra quello che vedete in colonna è l'organizzazione della memoria non ve la descrivo perché il tempo naturalmente passa e voglio arrivare alla storia anche oltre al programma 101 però quello che vi posso dire che cioè lo utilizzo questa per darvi un po' i numeri caratteristici di questa macchina sulla sinistra c'è lo schema della memoria una memoria molto semplice organizzata in registri sono 10 registri di cui due impliciti e 8 invece che sono visibili dall'operatore gli 8 i due impliciti sono intanto i registri essendo 10 sono di 24 byte ciascuno i byte qui sono di 8 bit la macchina in tutto ha 240 byte 240 byte meno di un quarto di k tanto per capire e lascio a voi fare il rapporto con le macchine di oggi comunque i due registri i due registri impliciti sono solo programma gli altri 8 sono per dati e per programma ci sono 3 registri operativi i primi 3 M e R e poi gli altri possono contenere o dati o programma questa è tutta la macchina imparata questa che è una cosa che si capisce benissimo tra l'altro i registri ogni registro ha il suo nome che è un simbolo una lettera ed è sulla tastiera il resto da sapere è il linguaggio il linguaggio di questa macchina è un linguaggio di 15 comandi 15 istruzioni anche questo è un linguaggio simbolico ogni istruzione sta su un byte di 8 bit quindi istruzioni sono veramente una cosa essenziale perché tra l'altro essendo una evoluzione del linguaggio delle macchine da calcolo meccaniche è una cosa che la gente sapeva usare tutti i giorni cioè tanto per dire ci sono 5 istruzioni aritematiche 4 a 2 operandi più o meno per diviso c'è una istruzione un solo operando che è la radice quadrata ci sono 3 istruzioni per spostare dati da un registro all'altro c'è una istruzione di chiamiamola input cioè è lo stop quando la macchina lo trova nel programma che è il codice 0 anche si ferma libera la tastiera e quindi l'operatore può introdurre un nuovo numero un nuovo comando a mano e poi per finire ci sono 4 tasti 4 istruzioni W, W, Y, Z che sono gli unici un po' diversi dagli altri meno intuitivi diciamo perché sono le istruzioni di salto vi dico solo quello che servono servono per chiamare un programma sono organizzati a coppie di codici uno è il punto di partenza quando lo trova la macchina dice sa che non deve più andare diritto va a cercare va a cercare un codice associato che li fa da label da bandierina da etichetta e che io metterò all'inizio di una nuova applicazione di un nuovo programma di un sottoprogramma e così W, W, Y, Z sono 4 tra l'altro divisi in due categorie categoria dei salti incondizionati cioè quando la macchina lo trova salta sempre cioè cambia sempre la sequenza e invece con una caratteristica possono essere utilizzati come condizionati cioè saltano solo se il contenuto del registro A dove si formano i risultati è maggiore di 0 questo serve proprio per discriminare quelle che sono i lavori i valori logicamente differenti che serve conoscere cioè maggiore di 0 minore di 0 uguale a 0 come faccio se salta subito vuol dire che è maggiore di 0 abbiamo un'istruzione che è il valore assoluto del registro A facciamo se non salta va a diritto gli metto un fai il valore assoluto e poi provo a saltare di nuovo se adesso salta vuol dire che era negativo è diventato positivo se non salta è veramente 0 e così l'equazione di secondo grado riesco a risolverla comunque abbiamo fatto un prototipo che avesse questo linguaggio e tra l'altro se guardate tutta la tastiera che ne è venuta fuori perché tutto il linguaggio è lì è un linguaggio simbolico come dico ogni istruzione ha il suo simbolo e il suo tasto però abbiamo fatto in modo che quando schiaccio quel tasto quell'istruzione la tastiera genera un codice che è esattamente quello che io metto come codice di istruzione non ho bisogno di traduttori di assemblatori di compilatori cioè praticamente io con la macchina la metto in stato carica programma digito sulla macchina e genero il programma senza bisogno di nient'altro non ho bisogno di strumenti accessori al di fuori della macchina poi abbiamo realizzato un prototipo che eseguisce esattamente questo linguaggio abbiamo fatto dimostrazione abbiamo provato a fare i programmi abbiamo capito che il linguaggio era valido però facendo le dimostrazioni utilizzando la macchina abbiamo capito che c'era un problema di fondo tanto vabbè vi faccio vedere gli altri componenti della macchina perché siamo stati fortunati abbiamo trovato che c'era un piccolo laboratorio di progettisti meccanici che aveva già non sa perché ma aveva sentito che prima o poi qualcuno avrebbe potuto utilizzarla aveva sviluppato una stampantina molto semplice seriale che con tre solo fili di interfaccia riusciva a essere pilotata guarda caso da qualcosa di elettronico era una cosa nuova a quel tempo perché tutti gli oggetti che stampavano in olivetti avevano un'interfaccia meccanica erano quelle macchine da calcolo eccetera questo era stato fatto sembra forse per un ambiente di strumentazione eccetera con interfaccia elettronica cioè con tre fili perché è una stampantina molto semplice ma veramente geniale c'è un rullo che porta i caratteri sul rullo c'è una ruota che dà un impulso per ogni cambiamento di carattere ogni riga e poi c'è un carellino che porta un martelletto con elettromagnete io con un elettromagnete do il via al carellino faccio partire tutto l'elettronega quando deve stampare tira fuori un carattere per ogni carattere va a vedere conta gli impulsi che vengono dati dalla ruota e dagli impulsi che mi dicono la posizione del rullo diciamo devo stampare il 6 allora l'elettronica conta 6 impulsi sa che dopo 6 impulsi ogni impulso è il cambiamento di un carattere se devo stampare il 6 dopo 6 impulsi io do corrente all'elettromagnete che mi spara il martelletto e andrà a beccare esattamente il 6 questo a ogni giro del rullo il carellino si sposta di una colonna e quindi così avanti finché ho esaurito il numero quindi con 3 anche qui circuiti di interfaccia io ho fatto tutto quello che serve per stampare va a 30 carattere al secondo cosa che la telescrivente che avevamo usato come prima unità di stampa andava a 12 carattere al secondo era già un prodotto quindi 2 volte e mezzo quello che era il prodotto di allora non è poco per un oggetto meccanico la tastiera l'abbiamo già vista ecco quando abbiamo realizzato questo livello di prototipo con quel linguaggio questa stampantina proprio l'uso la dimostrazione di quello ci ha fatto capire che avevamo un problema il problema era primo dato il tipo di memoria dinamica e così quando spegnavamo la macchina perdavamo quello che avevamo messo dentro tutte le volte che dovevamo cambiare lavoro dovevamo introdurre a mano il programma programma molto facile da mettere dentro perché l'istruzione bastava schiacciare il tasto quindi se uno ti sei iscritto al programma sai che funziona fai introduci però il programma può essere di 120 istruzioni come massimo 120 battute solo per l'istruzione poi c'è il campo indirizzi c'era avevamo qualche centinaio di battute si impiega tempo si può fare qualche errore bisognava appena introdotto il programma provarlo di nuovo ma allora tutto il vantaggio di aver reso automatica l'esecuzione del calcolo delle formule eccetera poi te lo vai a perdere nel dover controllare i programmi allora abbiamo capito che dovevamo trovare un modo per una volta fatto il programma di poterlo archiviare poterlo rileggere quando era necessario senza doverlo ribattere e così dopo aver ricercato e per un motivo di semplicità e funzionalità abbiamo introdotto quello che è da considerare il primo supporto magnetico discreto della storia la cartolina magnetica che è stata brevettata e poi si è trasformata perché questo è un supporto di Mylar una plastica diciamo flessibile e comunque con la stessa tecnologia sono stati fatti i floppy disk prima gli 8 pollici poi i 5 pollici 3 pollici e mezzo poi dopo sono arrivate le chiavette adesso c'è la cloud ma il concetto è sempre lo stesso avere la possibilità una volta che hai fatto un programma una app come si direbbe adesso di poterla archiviare e tirar fuori in modo sicuro non dover ribattere il programma quindi noi introducendo una cartolina che è stata registrata in un secondo e con sicurezza perché sappiamo la macchina se non legge perfettamente bene ci sono i codici di controllo eccetera no ce lo dice e quindi dobbiamo riprovare un'altra cartolina o rileggere la cartolina comunque questo è stato la cosa che ci ha convinto abbiamo realizzato un ulteriore prototipo che è stato quello definitivo con una macchina che aveva quella stampante quel linguaggio quella memoria e questa cartolina e questi sono gli aspetti fondamentali che hanno portato ad avere la l'invenzione diciamo del personal computer questo qui è uno schema che raccoglie un po' quello che ho detto sostanzialmente la macchina a quel tempo è fatta tutta di transistor non c'è non ci sono le CPU poi i circuiti integrati e roba del genere tutta a transistor è una macchina quindi che è costituita come vedete da una rete logica che è la scatola in mezzo sequenziata dalla linea magnetostritiva e che interfaccia da una parte la tastiera come organo di input come organo di output c'è la stampante e in input e in output c'è la cartolina magnetica e questa è tutta la macchina diciamo che a quel punto ecco tanto per fare un po' di storia siamo arrivati con questi tre step quindi quello di provare la linea magnetostritiva se funzionava di fare il linguaggio e la prima versione il prototipo poi fare il secondo eravamo arrivati nel 64 in particolare durante il 64 era successo che diciamo l'Olivetti si era trovata all'inizio degli anni 60 con dei problemi finanziari quindi la società la famiglia Olivetti aveva chiesto un supporto da aziende italiane e banche italiane si erano messe un'accordata fatta dalla Fiat alla Pirelli Mediovanca Liri e la centrale a dare un supporto però questo gruppo di supporto ha chiesto all'Olivetti di vendere tutta la divisione elettronica quella divisione elettronica che stava quindi laboratorio ricerca elettronica tutta la parte commerciale che stava sviluppando i successori dell'ELEA 9003 stava installando l'ELEA 9003 e quindi era tutta questa organizzazione organizzazione di programmazione quindi gruppi di programmazione e i gruppi di progettazione di evoluzione delle tecnologie cosa che è avvenuta perché durante il 64 a metà del 64 praticamente L'Olivetti aveva dovuto cedere alla generale elettrica e tutto non ha ceduto un unico gruppettino il gruppettino dell'ingegneria Perotto perché quello che faceva l'ingegneria Perotto la generale elettrica non interessava sostanzialmente non solo ci ha raccontato Mario Calieris che era uno dei rispondenti ma anche il Serino Piol che su richiesta di Roberto Olivetti durante le contrattazioni aveva passato le notti a cambiare come era descritta la macchina che poi è diventata la programma 101 nei documenti invece di metterlo computer da scrivania il computer metterlo calcolatrice l'hanno resa quindi con un nome femminile e così la calcolatrice era per definizione qualcosa doveva stare in Olivetti e il computer invece doveva andare alla generale morale noi siamo rimasti Olivetti unico gruppettino abbiamo portato un Olivetti che comunque il gruppo di intervento aveva messo come amministratore delegato una sua persona persona di Valletta Aurelio Pecei con l'incarico naturalmente di garantire che l'Olivetti si fosse liberata dall'elettronica e si dedicasse seriamente alla meccanica a una nuova linea di macchine meccaniche perché quello era doveva essere il core business e l'Olivetti che Valletta ha detto una cosa solida ha solo questo neo che è l'elettronica che non doveva mai mettersi a fare perché nessuna azienda europea poteva permettersi di mettere in quel campo morale tutta la divisione elettronica è tornata sotto il controllo americano così come secondo me anche l'America di quel tempo voleva proprio perché era uno strumento strategico e non aveva nessuna voglia di rischiare che questo strumento strategico fosse accessibile anche dall'altra parte perché l'Italia confinava attraverso la cortina di ferro con l'altro blocco e quindi sappiamo come vanno queste cose e lì quando i poteri forti volevano a quel tempo facevano quello che volevano le cose dovevano andare sono andate così però il gruppetto di Perotto è rimasto diciamo alla fine del 64 avevamo fatto il nostro prototipo ah ecco quando è successo questo l'ingegnere Perotto ha detto ragazzi prima che ci facciano smettere perché non so chi capisce cosa stiamo facendo il valore eccetera dice facciamo un po' di fotografie facciamo un po' di fotografie perché almeno lasciamo alla storia che avevamo fatto qualcosa se no mi sa che nessuno ci crede e allora abbiamo fatto quelle quattro foto che cominciano essere note questi qui siamo i quattro che erano in quella stanza l'ingegnere Perotto con i baffetti vicino a lui c'era l'ingegnere De Sander di dietro l'ingegnere Perotto ci sono io poi c'è un altro collega che faceva un'altra attività ha fatto questa foto poi ne ha fatto una simmetrica con loro adesso in piedi noi seduti e in particolare ha fatto anche quello della macchina come vedete sulla destra c'è la macchina a livello di quel tempo c'è una parte elettronica che sono diciamo dei fogli di elettronica che però erano già con ingegnerizzazione definitiva e c'è sul REC anche la parte meccanica che comprende tutte le parti che vi ho descritto appena abbiamo finito l'ingegnere Perotto ha portato noi eravamo ancora a Pregnana in un isolotto dentro ai laboratori di Pregnana li ha portati invece dai meccanici che erano a San Lorenzo ad Ivrea e quelli l'hanno vestita come vedete cioè hanno messo una scatola di lamiera intorno e questa è quella che abbiamo chiamato la Perottina e che Perotto ha voluto presentare presentare a chi per prima quello che era diventato capo di tutti i laboratori di progetto delle Olivetti ed era Natale Capellano il padre di tutte le macchine da calcolo più belle dico del mondo perché sono quelle che poi gli altri hanno copiato quelle che hanno fatto grande all'Olivetti in sostanza più ancora delle macchine per scrivere perché sono quelle macchine tipo la Divisum che erano le più belle le più veloci le più semplici le meno costose a produrre e quindi quelle che davano maggior profitto cioè Olivetti ha fatto un sacco di soldi come dicevo c'era un rapporto 1 a 10 dopo il 90% era profitto che però Adriano ha saputo sempre reinvestire ha reinvestito tutto e abbiamo visto con quanta lungimiranza avesse investito ma comunque l'ha fatto io mi ricordo perché ero io quello che faceva l'operatore a San Lorenzo con l'ingegnere per otto tutti noi progettisti intorno e Natale Capellaro che era un po' praticamente il nostro capo il capo di tutta la ricerca ed è stato il momento topico perché perché l'Olivetti doveva essere costretto a pensare meccanica stava preparando la nuova linea di macchine da calcolo che dovevano essere la nuova evoluzione su cui l'Olivetti doveva puntare e doveva con quella ritornare a fare il suo budget guarda caso quelle macchine erano state progettate non l'ultima non la nuova da questo signore che era diventato il nostro capo quindi abbiamo detto facciamola vedere e lì si va a capire dove si va a parare abbiamo fatto vedere l'ingegnere perotto gli ha descritto gli ha descritto come funzionava la linea magnetistrativa me lo ricordo cosa faceva la macchina gli abbiamo fatto vedere i programmini cosa insomma gli abbiamo fatto la dimostrazione di tutto poi l'ingegnere perotto a un certo punto ha finito e ha fatto capire che aspettava il verdetto cosa dice il nostro capo che era una prima linea sostanzialmente dell'amministrazione delegata e questo signore che ormai era già anziano eccetera è stato guardate per 30 secondi senza parlare vi dico non volava una mosca un silenzio una tensione per noi tutti perché era un momento fondamentale questo signore che avrebbe potuto dire ragazzi voi sapete gran bella macchina però un po' cara perché elettronica a quel tempo era ancora un po' cara voi sapete che noi dobbiamo puntare stiamo puntando tutto alle nuove linee meccaniche peccato molto bella fa cose meravigliore però non so purtroppo è così invece dopo 30 secondi di tensione ha messo la mano sulla spalla dell'ingegnere però ha detto caro ingegnere vedendo questa macchina io capisco che l'era del calcolo meccanico è finita lui il padre di quello che ha fatto grande con l'appoggio di tutti che voleva che l'olivetti tornasse a quel periodo a quelle macchine eccetera ha fatto questa espressione per me è stata veramente una cosa dico incredibile emozionante comunque questo probabilmente è stato quello che ha sbloccato in olivetti perché il suo parere poi c'era anche Roberto Olivetti che pur non avendo più l'amministrazione delegata perché c'era l'uomo di Valletta Aurelio Pecei morale hanno deciso di presentare la macchina la macchina però come un prototipo di presentarla nei Stati Uniti cosa che l'ingegnere perotto e a noi ha fatto venire i brividi perché una macchina nuova che tutti i nolivetti quelli che affrontavano questo discorso dicevano poi com'è che si assiste una macchina l'olivetti non sa gestire una macchina cosa ne verrà fuori decidono poi di lanciarla negli Stati Uniti figurati te quindi noi un po' spaventati tant'è vero che quando è stato deciso di fare un primo lotto a Scarmagno no Scarmagno a San Bernardo macchine tutte imballate primo lotto da spedire nel discorso l'ingegnere perotto ci ha chiamato e di notte siamo andati abbiamo sballato tutte le abbiamo riprovate tutte perché dice se ce n'è una che non funziona poi torna indietro che le macchine non vanno eccetera invece è arrivata la lettera da quel primo lotto che diceva complimenti le macchine sono andate tutte comunque questo un inciso ha deciso comunque di presentarla presentarla negli Stati Uniti e il momento di presentarla era quando si presentava le macchine la Logos 27 è una nuova macchina calcolatrice meccanica e si stava preparando il lancio al Bima di New York come lo Smauma per tutti gli Stati Uniti che era nell'ottobre dell'85 io tra l'altro sono andato a portare le prime macchine per avviare il gruppo che doveva fare l'assistenza dello stack negli Stati Uniti però ho dovuto venire via subito e aveva ancora il militare pendente chi aveva il militare pendente aveva il visto solo fino a sei mesi da quando scadeva il rinvio militare quindi a un certo punto io sono andato avevo venti giorni sono entrato mi hanno detto tra venti giorni lei sa che deve tornare io ho detto certo che lo so sono andato poi ho detto figurati chi mi viene a cercare beh il diciannovesimo giorno è avvisato è arrivato un poliziotto che ha detto signori qui c'è un signore che domani prende la valigia se ne deve andare ho detto siamo in un altro mondo evidentemente comunque poi sono tornato lo so era il 20 di maggio perché ho ancora la carta d'imbarco era il mio primo volo comunque ho deciso di lanciarlo negli Stati Uniti e lì poi è successo una cosa intanto il lancio è stato presentato veramente bene secondo me lì le cose le ha fatte veramente bene forse qualcuno aveva anche capito già il livello della macchina e cosa voleva dire comunque l'hanno lanciato hanno fatto come fa la Apple fa la convention quindi World of Astoria tutti gli specialisti chiamati noi stiamo per lanciare questa macchina cosa fa la macchina gli erodici eccetera qui lì la gente si era meravigliata comunque cos'è che li ha fatto fare alla convention avevano fatto un programma in modo che la macchina facesse il calcolo dell'orbita di un satellite intorno alla Terra satellite artificiale era il tempo nel 65 in cui l'America aveva detto che sarebbe andata per prima sulla Luna però intanto i russi con Yuri Gagarin gli Sputnik aveva conquistato lo spazio c'era nella popolazione americana un qualcosa di preoccupato per questo gli americani sono abituati a essere sempre al top quindi questo aveva creato dei problemi dal punto di vista degli americani sta di fatto che poi la NASA ha ordinato subito un po' di macchine alla fine ne ha comprate 45 noi abbiamo tre fotografie con le scrivanie della NASA con le programma 101 no non solo due di quelle fotografie portano delle macchine che io riconosco sono a livello di pre-serie non proprio prototipale ma sono i primissi che poi sono stati subiti cambiati ne hanno fatte meno di 100 quindi la NASA ha voluto le primissime macchine noi qualche tempo fa tra circa un mesetto abbiamo rinvenuto trovato ci hanno mandato un libretto che contiene cinque programmi fatti dalla NASA per il calcolo delle traiettorie finali di corpi che devono scendere e quindi a seconda della velocità della posizione dell'altezza dell'inclinazione eccetera calcoli famiglie di curve sono proprio calcolate sono cinque diversi quindi possiamo veramente dire che tutto sommato questo ha aiutato a velocizzare il calcolatore ha aiutato a velocizzare la bomba atomica questo ha aiutato a velocizzare quello che è lo sbarco sulla Luna comunque ne ha comperate tante così inciso anche questo poi quindi dopo diciamo la convention è cominciato il Bima cioè quindi la fiera e lì hanno presentato la programma 101 in uno stanzino dentro lo stand era tutto pieno delle macchine per scrivere e soprattutto delle nuove macchine da calcolo la Logos 27 la nuova eccetera e dietro facevano vedere a qualcuno insomma la macchina però quando si è sparsa la voce sono stati costretti gli organizzatori a portare la programma 101 in mezzo allo stand e a organizzare un percorso dei visitatori perché tutti volevano andare e hanno dovuto proprio creare un'organizzazione perché se no la gente faceva solo capanello intorno e non si muoveva più niente questo per dire gli americani il giorno dopo che è stata presentata gli specialisti hanno scritto tutti i suoi giornali dicendo che era arrivato il primo desktop computer primo calcolatore da tavolo e uno addirittura aveva scritto vedendo questa macchina pensiamo che avremmo tutti un computer sulla scrivania prima di avere la seconda auto in garage e ragazzi questo vuol dire aver capito cioè gli hanno capito che era arrivato qualcosa di veramente nuovo cioè le macchine che ricalcavano le macchine di prima si erano più veloci eccetera ma sostanzialmente erano una evoluzione abbastanza linea questa era una rivoluzione che era cominciata e di fatto da lì è cominciata perché poi e diciamo dicevo prima chi era vicino alla macchina di fatto le caratteristiche di questa macchina sono quelle su cui si è costruita l'evoluzione facilità d'uso la dimensione il linguaggio facile da usare e soprattutto la capacità di archiviare e di richiamare le applicazioni le app poi l'olivetti con questa macchina ha cominciato a sviluppare da sola anche le app e a vendere ha fatto dei libri con delle applicazioni già sviluppate dava la cartolina si registrava si scriveva però qualcuno che voleva si compriva il libro e poi le trovava il primo libro ha una serie di diciamo programmi già volti che sono su nove campi di applicazione che vanno da matematica statistica ingegnerie di tutti i tipi e così abbiamo la fotografia che era stata usata anche in una sala operatoria per tenere sotto controllo in tempo reale quelle che erano certe caratteristiche del sangue non vi so dire comunque tanto per dire l'applicazione è una macchina numerica ma ha dimostrato di essere dal punto di vista numerico qualcosa che riesce ad affrontare qualsiasi tipo di problema di fatto il suo limite è la dimensione in memoria no però qualcuno poi ci è ingegnato e ad esempio i programmi li spezzava in fasi e faceva calcoli in fasi cioè più cartoline per eseguire un programma devo controllare il tempo vedere se riesco volevo andare oltre perché vediamo questa qui questo sono io quando sono andato nel maggio in particolare quello che voglio farvi vedere sulla destra in alto c'è Manhattan visto dall'Empire State Building si vede guardando bene c'era un po' di fuschia la statua della libertà quello che faccio notare è che a quel tempo non c'erano ancora le Twin Tower non ci sono ancora adesso però è passato un periodo in cui ci sono state là in fondo le due torri gemelle vabbè andiamo avanti ho parlato della presentazione della programma 101 che è stata capita questo è il discorso della sala e ecco queste sono due foto dei scrivani della NASA e ad esempio il primo c'è Lunar Flight End Book quel signore lì con il braccio che si vede che ha una delle macchine vedete le alette sul lato destro della macchina se guardate questa macchina non ha più le alette perché questo era la macchina come erano di preserie e poi visto che abbiamo pochi minuti vi voglio parlare del dopo programma 101 il dopo programma 101 perché l'Olivetti non ha adesso la programma 101 comincia a essere nota però poi l'Olivetti non è mica morta è partita dalla 101 quello che ho messo intorno sostanzialmente è in alto quello che è stata la prima evoluzione della 101 che abbiamo chiamato P102 la 101 è una macchina chiusa cioè nel senso che solo manuale noi usiamo e otteniamo il risultato sulla carta ma spinti dalla necessità da un problema di un nostro cliente a marina militare inglese abbiamo fatto la 102 che è un noi chiamavamo il PNS prodotto non standard comunque è una 101 evoluta che è anche una interfaccia di input out cioè attraverso questa interfaccia invece di mettere dentro i dati da tastiera si possono prendere da un'apparecchiatura esterna invece di stampare si può mandare all'esterno con una certa codifica con una certa interfaccia e sequenza quelli che sono i risultati è servita diciamo la marina militare inglese che voleva utilizzare questa macchina nei sommergibili per fare i calcoli di puntamento dei missili e ci aveva detto a me va bene i calcoli che fa però dobbiamo mettergli uno che introduce i dati vede i risultati e copie i risultati manualmente sull'unità di puntamento perché non ci fate un qualcosa che consenta di prendere i dati da fuori comunque oppure se li prende da tastiera comunque di mandare i risultati direttamente del coso così evitiamo errori e eliminiamo il tempo di trascrizione e così pensando abbiamo fatto appunto l'interfaccia in input e in output per esempio automatico noi ne abbiamo una di queste macchine in laboratorio che siamo riusciti a far funzionare non come organo input output ma che è arrivata c'è arrivata da un concessionario Olivetti di Varese perché era stata venduta era stata installata a Ispra all'Euratom quindi quando gli hanno portato un nuovo pc che era più evoluto più moderno ha ritirato questo ce l'ha portata e siamo riusciti a farla funzionare questa macchina vi ho detto che la 101 ha 15 istruzioni quindi si codifica su 4 bit l'istruzione questa macchina usa anche il sedicesimo codice perché è quello che genera l'istruzione per mandare fuori sul bocchazzone e quelli che sono i dati e questa è stata la prima poi questa è quella in alto in verticale poi sulla destra diciamo a 45 gradi c'è una fatturatrice la P203 abbiamo preso una 101 e le abbiamo attaccato una Tecne una macchina per scrivere pilotando la Tecne riuscivamo a stampare i risultati e quindi è nata una fatturatrice penso che ne abbiano fatte più di queste perché l'Olivetti aveva una entratura più che nel campo scientifico ce l'aveva in quello commerciale comunque questa è una macchina che tra l'altro è molto bella anche questa è direttamente ricavata vuol dire linea magnetostritiva transistor eccetera poi invece ne abbiamo una ridotta è quella più in basso sempre sulla destra ma in basso è la prima calcolatrice elettronica a transistor dell'Olivetti che proprio per non disturbare le macchine meccaniche è rimasta lì io sono andato a militare all'inizio del 67 però questa macchina qui l'avevamo fatta praticamente già all'inizio del 66 però proprio l'Olivetti non l'ha messa in produzione quando sono tornato a militare a metà del 68 cominciava a uscire però guarda caso in tre anni in elettronica sapete cosa vuol dire una macchina a transistor a 68 è nata praticamente morta ma avevo ricavato lo schema voi vedete che sulla destra della Logos 328 come si chiamava la calcolatrice che poi è andata in produzione ma come dico era a transistor nel 68 avevo già fatto lo schema della prima calcolatrice a DTL che poi si è chiamata Logos 270 che è data in produzione subito dopo credo nel 70 cosa è successo dopo vabbè io sono andato a militare perché a un certo punto non sapevamo cosa fare perché in quella Olivetti in effetti non è che ci fosse più la spinta all'elettronica non solo ma c'era anche la mentalità che le macchine una volta mandate in produzione le macchine meccaniche soprattutto si faceva un grande sforzo perché era l'attrezzaggio di quelle macchine lì è enorme macchine di qualche migliaio di pezzi che quindi ogni pezzo doveva avere lo stampo eccetera per la tranciatura la piegatura tutte queste robe qua però una volta che l'avevi mandato in produzione lo tenevi per 10-12 anni e uno si aspettava che anche questa novità che nessuno aveva ancora fatto figurati te quanto ce la teniamo quindi non avevamo ancora pensato non avevamo sentito la necessità di far partire un nuovo studio per fare l'evoluzione naturale di questa quando nel 68 quindi quando io sono tornato a militare la prima cosa che De Sande mi ha detto Garziera guarda che l'HP lui aveva un collega in HP era uscito dall'università insieme che l'aveva chiamato e dice guarda lo dico prima te l'HP sta lanciando un concorrente della programma 101 noi non avevamo ancora cominciato a pensare a cosa poteva essere una evoluzione della 101 erano passati solo tre anni figurati te comunque l'HP nel 68 ha tirato fuori il 9100 aveva l'HP è stato forse il più grosso fra i primi diciamo clienti della programma 101 ne ha comprati più di 100 questo dato me l'ha dato Piol il serino Piol li ha usati perché aveva dei laboratori in cui servivano sicuramente macchine di questo genere se servivano alla NASA però naturalmente ha fatto anche il reverso engineering è andato ha capito come funzionava l'ha copiata poi lei si faceva i componenti elettronici certe cose le ha fatte diverse sostanzialmente ha tirato fuori una macchina che era molto più leggera meno meccanica però aveva copiato anche la cartolina magnetica per fortuna anche se noi progettisti non eravamo molto simile ma era stata brevettata la programma 101 in particolare la cartolina magnetica l'HP ha ammesso di averla copiata e ha pagato 900.000 dollari il discorso era stato discorso finito nel 69 nel 69 ha pagato 900.000 dollari di quel tempo poi sapendo che stava andando avanti ancora ha detto ha fatto una proposta all'Olivetti dice ma perché ci facciamo la guerra ok ci facciamo la guerra scambiamoci amichevolmente i nostri brevetti e così è stato quindi da lì in poi noi non abbiamo più fatto così lei ha continuato a fare queste macchine perché noi ci siamo messi arrancando in quello Olivetti che aveva perso praticamente tutto il suo know-how elettronico a cercare di fare i successori del programma 101 però intanto l'HP non solo ha tirato fuori il 9100 ma tre anni dopo ancora ha tirato fuori una linea la linea 98 9810 9820 9830 che veramente erano delle macchine eccezionali dal punto di vista elettronico e dal punto di vista anche della capacità voi sapete il tempo passa non in vano perché ogni due anni come dice Moore per la legge di Moore la memoria disponibile è di quattro volte di più comunque noi abbiamo subito messo in cantiere delle macchine che poi sono arrivate un po' tardino in particolare 602 che aveva ancora la linea magnetostitiva ma era DTL e la 652 in cui invece abbiamo fatto la prima unità centrale fatta in casa e poi una macchina però che ricalcava quello che era l'organizzazione e l'architettura come linguaggio soprattutto la memoria era ben più grossa qui come particolare posso dire che la 652 aveva fatto un'unità centrale che avevamo progettato noi e dieci anni dopo dodici anni dopo abbiamo capito che senza saperlo avevamo fatto il primo RISC RISC che a metà degli anni 80 RISC sta per Reduce Distraction Set ecco la nostra unità centrale era un Reduce Distraction Set sa di fatto che era velocissima e faceva in firmware delle cose che erano cose fatte normalmente nei governi per pilotare le periferiche in particolare tanto per dare solo la capacità e la velocità di questa macchina qui ha una cartolina su due piste e attraverso l'unità centrale in firmware noi generavamo la forma d'onda di magnetizzazione del supporto magnetico direttamente in unità centrale questo tanto per dire ma non lo sapevamo anche lì abbiamo perso l'occasione comunque finalmente poi invece abbiamo impostato nel 73 quello che è stata la macchina che quando è uscita nel 76 è stata la macchina che ha definito cioè la 101 ha definito il concetto di personal computer e questa il P6060 del 76 ha definito quello che è stata l'architettura definitiva dei PC perché da lì in poi sono stati fatti così è una macchina basic aveva la RAM aveva una ROM di caricamento perché aveva il doppio flop inserito in macchina integrato in macchina nel flop avevamo messo il sistema operativo quando si accendeva la macchina veniva caricato il sistema operativo tutto il software in RAM e da lì partiva cosa che i personal computer fanno ancora oggi quando li accenti caricano dal supporto magnetico il disco quello che è tutto quello che serve per attrezzare tra l'altro la ROM di caricamento faceva anche un primo survey di quello che era lo stato di tutta la macchina quindi quantità di memoria se tutto funzionava faceva una prima diagnostica che era cosa incredibile a quel tempo comunque ecco finalmente aveva una stampa soltanto carattere una stampa termografica che però sapeva gestire la carta come un foglio di plotter perché copriva tutti i punti della superficie quindi plotava l'abbiamo dotata poi del monitor monitor grafico anche quello quindi mettavamo la grafica sul monitor aveva le interfacce standard verso periferiche la Y che è standard olivette la IEEE 488 che era la stampa per altre periferiche tra l'altro definita e voluta dalla CAPI stessa e aveva anche la doppia questa è stata un'altra novità un'altra novità che poi è rimasta nel tempo una doppia interfaccia seriale che si è evoluta nel tempo ma è diventato lo standard la USB di oggi che è ancora lì ne avevamo già due P6060 che è stata una cosa che è stata viva per un'infinità fino al 2000 è stata installata in gruppi di macchine che funzionavano e andavano ancora ragazzi io ho finito perché il tempo è andato via e quindi non so andare oltre grazie a tutti che si è evitato in un'altra novità che si è evitato che si è evitato e che si è evitato in un'altra novità Grazie a tutti